Il teatro sociale Il teatro sociale Però sono tecniche che si possono approcciare in maniera più semplice con grandi gruppi e senza una particolare preparazione È sempre un lavoro che riguarda il singolo, il singolo nel gruppo e quindi piccole esperienze di comunità che si confrontano con la relazione, con lo spazio e col gruppo stesso Il teatro sociale 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 sociale Il teatro sociale sociale Il teatro sociale Il teatro sociale sociale Il teatro sociale sociale Il teatro sociale Il teatro sociale sociale Il teatro sociale 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 Il teatro sociale sociale Il teatro 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 sociale